vabbè vabbè non lo vero tanto poi io magari i bordi ci taglio vai allora stiamo avvenendo ah bella a tutti i like qui è Danion snake si snake ha vingi ha vingi ha vingi perché ha detto snake shakroudy perché mi sta avviato a vederli video allora stiamo in un episodio su gta anche se questa volta viene un po male scusate la qualità del bj video perchè non siamo così l'abbiamo fatto attrezzati ci dobbiamo attrezzare perchè avevo un momento un'idea cosa si può realizzare quindi niente da questa volta ci organizzeremo meglio ora che faremo ora continui cazzo time oltre a questo non faccio qualche rapina così per divertirci per farti servire in polizia allora cominciamo perchè c'è anche la cucchia stavolta vabbè un amico dei soldi perchè prima erano migliorari erano ricchiere assurda chi è lui allora che dopo quel caso nonostante nonostante troppo scusate scusate potenzialmente scusate per la lentezza del motore per lento mi chiedevi dire scusa per la lentezza del motore per essere mostrata la vespa aspettate ragazzi come non posso fare l'auto lavaggio la prima rapisco io comunque abbiamo pensato di fare un'altra cosa io da casa mia e da casa sua tu sei uno di colore conosciamoci meglio io sono razzista fanculo nero 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 che cazzo appunti aspera rosa coppia rosa 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 c'è l'elicottero esagerato minchia ora con la pace c'è l'elicottero fuggiamo 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 che culo c'è l'altro però minchia c'ho caduto troppo spesso se no nero nero scusate ma c'è un colpo pochino nero 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 intanto mi fanno un pochino antipatiavoli che vendono le rosa ecco per essere meglio di andare in moto sono morto per essere meglio di andare in moto nero e' il tuo e' il tuo carico il tuo motorino del calzo alla pittina prima di registrare il mio il santo con il motorino a fare caduta ogni 5 minuti e ma tutto tutta la vita ma ha tolto rubiamo il nostro motore no non lo mai mettiamoci la macchina perché ma una macchina bella è questa ah beh che è una mia macchina no non la posso chiamare cos'ennò poi mi si bagga e non ce l'ho più la moto c'è l'altro tavolo che è successo non la chiama è un drappente quindi per la pina iiii no io pure come si scelta qui dentro uuuu guarda tutti i ragazzi da l'altro sono le scarpe cazzotai meh 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 bella ragazzi andiamo in bici ieri già la polizia è chiamata minchia vaffanculo no dai ragazzi ora sarebbe farvi comprare ma stai gruppando la pietra la macchina ecco appunto prendiamoci la bici fa un culo cammina quella verde che figata verde è la cosa la cosa sarte invece di fare il teg la polizia di seguardo tutti i campi di ralbero iiii iiii non iiii 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 le sue le sue le sue iiii hai iiii iiii sono iiii 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 in un modo da in un modo stato perchè se lo faccio nell'altro mondo sono in quel modo che voglio essere comprovato no quando è uscito magari vanno tanto per la fine c'eravamo sesso comunque ragazzi non mi faccia da fare con la cosa è fatta questa tua ragione non ci sentiamo m ma puttana aspetti e ora facciamo stare a piedi per favore faccio ieri tuoi venire la macchina libera che non c'è la fai ma ieri il sferito non ti vuoi chiuso non mi ha detto non mi ha detto c'è stato un sacco assasso la tasse po i tempi contanti questo prendo speso di andate vi spiego questo video l'hanno fatto tanto per non lasciarvi senza video praticamente quindi è un po' un video così tanto per caricare un video come si sa dire non c'è la macchina, per questo durerà poco anche perchè non abbiamo tempo perchè qui i nostri Leon siccome sono le sette e mezza praticamente quasi e il nostro amico Leon se dovrebbe ritornare a casa che è venuto a casa mia con la B insomma lo fotte legnate in poche parole se non torno alle sette e mezza siccome già sono le sette e mezza quasi dobbiamo formare musulazzo guarda che ci fanno qua corri 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 se parte e non mori tu ora mori poi con la realtà.quadre sgommata super si sgommata di merda per un po' tra marzo e mezza contro la polizia bello si bello va a chiudere va a chiudere luna park si sai cosa fai si che lo so si va a chiudere luna park ragazzi eh voglio ci vedere cosa faccio si nel mare si la si butta in mare ragazzi perchè lui poverino la sua mente non arriva cat i 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 ragazza se volete aggiungermi a crescita ovunque riserva non amici praticamente perchè amici e mi chiamo the shark sniper ora vi facciamo vedere ecco tu ci diti così dc e poi magari in boccateremo i tuoi volar poi ciò prende un bel agosto per mancare un po' di video forse non lo so teppi decide su posto da poi vedere dai e bello intanto facciamo vedere che di si mi cedisce mi cedisce questo poi ci ha bisogno di un attimo ma non c'è bisogno di un attimo ma so cosa uomo do allora questo sarò io e il nostro amico vabbè si chiama Leo Mauro non è che sia tanto difficile da capire quindi non ve lo faccio vedere va bene vabbè al prossimo video bella ciao